Perché sono diventato scultore? Quando ero 17 anni, metà strada all'area geoclassica, i miei tempi erano sempre pieni di guerra. Per cui io, un ragazzo così profondamente credente, avevo tanta volontà e passione per la patria, abbandonando studi classico, e ho voluto fare il corso di aeronautica marina militare. Ho fatto durissima l'accademia aeronautica della marina, e poi ho partecipato all'ultimo momento per la guerra. Stavo quasi finendo, ho voluto fare il corso di kamikaze, volontariamente ho voluto offrire la mia vita per la patria, per l'imperatore. Purtroppo abbiamo perso la guerra con due bombe atomiche, e poi saltata fuori, l'imperatore non era nostro Dio, l'uomo normale come noi. E quando avevo saputo questo, ho avuto una grandissima delusione, disperazione. dal corpo umano mio, è uscito a parte invisibile come l'anima, fede. Quella è uscita. Io sono cadavere, carne, osso, sangue. Con quella è una sofferenza terribile. Un anno sofferto tanto, non vedevo più nessuno, non volevo più vedere nessuno, non volevo parlare con nessuno, non ridevo più. E un anno di sofferenza, una tarda notte, ho avuto uno come illuminazione, voluto essere nel campo d'arte. Credevo un campo d'arte molto sereno, potevo riprendere qualche cosa per posto di fede. Con quella, come ho avuto illuminazione, e per cui ho voluto diventare scultore. l'anima parte dell'opposto di materiale, perché qualsiasi cosa ci sono opposti, materiale visibile e toccabile, opposto di materiale visibile e toccabile, vuol dire invisibile, vuol dire l'anima, spirito, fede, amore, passione, volontà. Questa parte positiva, parte negativa, insieme è costruirla l'uomo. Come caldo o freddo, bene o male, buono o cattivo, nord o sud, freddo o caldo, tutto questo è opposto, pace e guerra. Finché esiste pace, non sparirà la guerra mai. Guerra ci sarà sempre opposto di pace. E poi è importante mantenere un equilibrio. L'unica soluzione è mantenere equilibrio. Noi diciamo, una parte dice continuamente pace, pace, però accanto alla producono armi, creano armi. e poi, ancora peggio, producendo armi e vende per altro Stato. Questa era una cosa gravissima al problema che abbiamo noi. Invece, a questo grande, all'uomo Gandhi, lui ha combattuto tutta la vita a mano libero. Mano libero. Invece noi diciamo pace e pace, ma accanto producono armi, creano armi. Poi, peggio, è vendere per altro Stato. E per quello è stato grande incontro con questa, la nipote di Indira Gandhi. E' una cosa molto profonda, ma molto semplice. Molto semplice. Gen è non avere niente più forte di tutto. Più ricco di tutto. Semplicemente. E' questo lì. Per esempio, il vero valore del bicchiere non è materiale. Il vero valore del bicchiere è vuoto, dove ci sta vino, l'acqua. Noi paghiamo affitto a casa, affitto a lavoratorio. Perché cosa paghiamo? Paghiamo per un spazio vuoto. Tegore, muro, qualsiasi materiale, non ha importanza. Importante è il spazio dove ci sta materiale, l'uomo. Dipende dalla grandezza del spazio o cambia la cifra dell'affitto. Noi paghiamo per quello vuoto, paghiamo. L'importante parte invisibile, questa era principalmente importante. E poi, quando l'uomo muore, carne e sangue o sparisse completamente, ma rimangono solo parte invisibile. Rimangono ricordo, pensiero di mio, nonno, nonno, nonna, papà, mamma. Ecco, quello che è rimasto, ricordo, continua, trasmette generazione e generazione. Il materiale scompare, completamente spariscono. E per quello è vuoto una cosa che è principalmente importante nella vita. Qui si capisce bene, essendo scultore, ne ho io tanto fantasia, poesia, filosofia. Quella parte idea invisibile devo trasformare visibile attraverso con il materiale. Bronzo, granito, pietra, legno. E quindi anche importante il materiale. E poi quello che è trasformato dal mondo dell'invisibile, idea, trasformato visibile attraverso con il materiale e quello che ho fatto io alla mia scultura trasmette mia poesia, mio sogno, mio desiderio. Ecco, qui trasmette parte invisibile. Significato goccia, goccia è una cosa importante come un ciclo della vita e goccia praticamente noi non possiamo mai guardare quotidianamente. però nascono questa, una goccia a forma perfetta momento di distacco della grondaia e in un attimo si nasce e in un attimo sparisce. Però noi non possiamo mai guardare con i nostri occhi però esistono. E poi questa goccia cade a terra poi si evapora va ancora verso il cielo poi si condensa e ritorna ancora a terra. Questo ciclo della vita c'è come l'acqua e per quello io ho voluto esprimere presentare goccia d'acqua qui ci sono goccia d'acqua ho voluto presentare nella vita però esiste ma quasi impossibile vederlo quasi possiamo dire anche invisibile ecco quelle rimangono l'umanità sta andando credo che molto male e oggigiorno dice crisi economica ma non è crisi economica secondo me qui gestendo per dirizzarlo questa crisi gestendo miliardi e miliardi di dollari non possiamo più dirizzarlo anzi sarà peggio invece questa crisi secondo me crisi dell'uomo cervello il nostro al cervello sono malati tutti malati allora per dirizzarlo questa crisi dobbiamo rieducare l'uomo è già 10 anni 10, 11 12 scuole elementari già sono troppo tardi per me deve educare insegnare un nuovo modo di vivere a 3 anni 4 anni di bambini se no non possiamo più dirizzarlo a questo mondo va verso credo peggio sempre deve venire rinascimento nuovo modo di vivere non come 50 anni 60 anni fa 60 anni fa 60 anni fa modo di vivere deve essere molto di più con lo spirito più che materiale per questo dobbiamo rontanare abbandonare consumismo e consumismo dobbiamo vivere più con la poesia più con la natura alla natura nella natura se no non possiamo più dirizzarlo va sempre verso peggio grazie 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 a tutti